Buongiorno a tutti e bentornati a Van Grande. Oggi sono qui in un altro angolo della nostra azienda e più precisamente sono in questo campo di barbabietole che sono state coltivate secondo il metodo biologico. Infatti tantissime erbette sono state rimosse ancora con il vecchio sistema della zappa o a mano. Però questo è un buon esercizio fisico che ci siamo perversi di fare in questo periodo. Adesso però finita la pulizia del nostro campo ci dedichiamo alla cucina soprattutto per preparare il menù del fine settimana che prevede la focaccia con i salumi di produzione aziendale abbinata dei bocconcini vegetariani. Come primi piatti invece potrete trovare i nostri bigoli con i ragù di corte o dei maccheroncini in una crema di zucchine e porro. Le carni invece potranno essere o una rosa di manzo con le patate al forno oppure dei bocconcini di pollo nostrano impanati al forno. Sempre noi prepariamo nei nostri menù la parte vegetariana come il gran mix di contorni o delle torte salate con le verdure di stagione. Sempre per completare le nostre le nostre proposte questo fine settimana ripropongo la crostata con le fragole fresche e la crema pasticcera oppure un dolce al cioccolato. Questi tipi di piatti li potrete gustare a casa vostra grazie al servizio che noi offriamo a domicilio o attraverso il servizio del trasporto quindi potete venire ad acquistarli qui da noi in azienda, previa telefonata e previa prenotazione. Se siete interessati a saperne di più di questi menu e dei nostri piatti vi invito a contattarci telefonicamente, a seguirci nelle nostre pagine del sito o attraverso le pagine dei social. Vi aspetto anche per questo fine settimana. Ciao!